Due strade si aprirono dentro un bosco autunnale e sfortunatamente non potei percorrerle entrambe e rimanere unico viandante. Rimasi a lungo incerto e osservavo una delle due più lontano che potevo fino a dove si confondeva nel sottobosco. Allora percorsi l'altra, tanto giusta quanto lecita, e promettendo forse la miglior riuscita, perché era erbosa e fascinosa. Tuttavia, come mi apprestai a passare di lì, assunsero in realtà quasi lo stesso aspetto, ed entrambe, quella mattina ugualmente pareggiate, tra le foglie nessun'orma le aveva scurite passando, o mi riservai la prima per un altro giorno, ben sapendo come una strada porti a un'altra, dubitai che sarei mai tornato indietro. Io starò a raccontare questo con rimpianto, da qualche parte tra molti anni in avanti. Due strade si aprirono dentro un bosco, e io? Io presi quella meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza.